L'Italia dice no alle tappe prefissate per l'Unione Europea. Ma stiamo scherzando? Cioè, ma si vede come il nostro governo sia un governo di trogloditi che vuole solo essere all'età della pietra? Cioè, allora, l'Italia appunto, come abbiamo detto, vuole dire no. Perché dice che non deve essere l'unica alternativa all'elettrico per la transizione energetica. Ma infatti, cioè, che ragionamento hanno fatto? L'Unione Europea ha detto stop ai motori diesel e benzina. Non ha detto è solo e unicamente l'elettrico e basta. Perché, come sappiamo, in questo periodo si sta iniziando a produrre anche macchine tipo a idrogeno, non so. E dico, mancano ancora dieci anni. E vuoi che in dieci anni l'idrogeno non si sviluppi? Cioè, dico io, ma stiamo scherzando? Che poi l'Unione Europea ha detto stop benzina e diesel. Quindi, le macchine a motori GPL e metano, sì, c'è in senso, potranno essere ancora prodotti. Quindi, perché non ne hanno parlato? Poi, cari trogloditi, se le macchine costano troppo, perché costano troppo e quindi la gente non riesce a comprarse, ben venga, uno, ci saranno meno macchine in giro. Due, si inizia a preferire trasporti pubblici, quindi anche per voi danno anche più soldi, perché dei trasporti pubblici devono pagare un biglietto, che questo biglietto in parte viene dato, parte dei soldi viene dato anche allo Stato, no? Ma per te è quello, le persone poi, usando trasporti pubblici, dovranno camminare per arrivarci, oppure andano direttamente al lavoro a piedi. Ciò vuol dire che, uno, fanno più attività fisica e quindi staranno anche meglio, no? Quindi, si riescono anche, ovvio, ci deve essere più organizzazione anche da parte dello Stato, quindi ci deve essere più impegno per questa transizione energetica. I due, staranno in linea di massi, cioè in linea di principio, le persone staranno anche un po' meglio, perché fanno più attività fisica, perché comunque devono camminare, ma certe volte devono camminare veloci, perché? Per arrivare in tempo, no? E quindi, è un buon... Secondo me l'Unione Europea fa bene a vietare macchine a diesel e a benzina. Poi c'è anche questa questione del GPL, che secondo me, devo dire, togliamo tutte le macchine a motori termici, quindi diesel, benzina, metano e GPL, ma metano i GPL, non ne hanno nominato, ma questo va bene, anche perché tanto sono macchine ancora di nicchia, mettiamola così, e non creano troppi problemi, il problema sono diesel e benzina. Ma secondo me, in realtà, il problema di questi trogloditi è che la macchina elettrica non è comoda per loro, perché? Perché comunque dicono, eh, devono stare sette ore con la carica e quindi non abbiamo una macchina subito, però non dobbiamo pensare alle comodità, ma dovremmo iniziare a dire, ok, fino al 1870 o 1890, insomma, intorno alla fine del 1900, all'inizio dell'800, inizio del 900, e iniziano ad esserci delle macchine. E da lì è iniziato ad esserci una serie di fattori che hanno portato a essere sempre più comodi, però questa comodità, come abbiamo visto, ha portato anche a grosse, a grossi danni per l'ambiente. E se vogliamo vivere, se vogliamo continuare a vivere, sai, cari togloditi, dovremmo cercare di inquinare di meno. E qual è una tra le prime fonti, perché non è la prima? Sono le macchine a produrre gas aerea, che poi ricordiamo che le macchine non producono solo CO2, ma producono anche NO2, ossido di azoto, che è altamente inquinante per l'ambiente. Voi direte, sì, ma si sono creati, ci sono le marmitte che impediscono questo passaggio. Sì, ma non del tutto, e quindi una parte passa. Quindi, cari togloditi, dovete pensare anche a questo, che sapendo che l'Italia comunque nelle città grandi c'è un grosso problema di inquinamento, e soprattutto ricordiamo Milano, Torino, ma non sono le uniche, perché comunque ce ne sono tantissime altre, perché i tassi stanno iniziando a creare quelle zone ZTL, dove non possono passare alle macchine. Però non è che se passa una macchina fuori dal centro, l'area dell'inquinamento non arriva, perché comunque arriva, dovrebbero dire, nelle città non si può più circolare se non è elettrico. Ciò vuol dire che, entro il 2035, dovremmo eliminare, più che eliminare, dovremmo già eliminarle adesso, le macchine, però diciamo che siamo ancora in un periodo di transizione, quindi non dico che proprio già dal prossimo anno bisogna. Però in dieci anni, non vuoi che l'idrogeno si sviluppi come è successo nell'elettrico? Faccio, vi dico un po' di dati. Nel 2013, cioè dieci anni fa, le macchine elettriche in Italia erano solo 114. Volete sapere adesso quanti sono, in teoria? Le macchine elettriche io dico, ho contatto, sia macchine elettriche che macchine ibride, perché comunque, poi le ibride in senso che fino a una certa soglia sono elettriche, poi da una soglia in poi vanno a benzina o diesel. Perché dico questo? Perché comunque alla fine in città tu usi solo macchine elettriche e sono 110.000 macchine elettriche. Ovvio, le macchine diesel e benzina sono benzina 850.000, ma diesel 763.000. Ovvio, sono nettamente maggiori le macchine, però in dieci anni si è fatto un passo enorme nell'elettrico, perché comunque ormai il problema è nelle colonnine, che comunque sono poche ancora in Italia, ma, ma devo dire che adesso in quasi tutti i paesi e città ci sono tante colonnine, più di una. E adesso io dico, secondo me in realtà il loro problema appunto, come vi ho detto, è la comodità. Ma non è solo di questi trogloditi, perché nei personaggi di troglodite ce ne sono. Infatti qualcuno mi ha scritto, non dico il nome perché è brutto, ma tanto saprà, se vede questo video saprà chi è. Mi ha detto che, lo leggo, non è possibile che le ambulanze in caso di necessità rimangano con il paziente dentro perché il caricatore non ha ben funzionato. Ma sapete perché questa frase non ha senso? Perché primo, il caricatore, se proprio dovesse andare, non dubito che in un ospedale ci sia solo un caricatore. Credo che ce ne saranno tanti altri, cioè tipo anche più di dieci, no? Cioè poi dipende anche da quante macchine ci sono, ma credo anche ci sia più di autoambulanze, no? Secondo, appunto, ci sono più di un'autoambulanza. E terzo, se caso la sfiga dovesse venire proprio in una probabilità, ma proprio in una probabilità bassissima, non dovesse funzionare tutti i caricatori, tutte le autoambulanze e non se ne sono accorti prima, perché sai, in sette ore dubito che non te ne accorgi, ma va bene. Ci sono, chiamano un altro ospedale, esempio da noi, ci sono tre ospedali vicini, chiamano un ospedale e dicono, senti tu, mi puoi mandare un'autoambulanza e vai a tot indirizzo perché le nostre non funzionano? E allora lo domando, perché dubito che un altro ospedale ci abbia stesso problema, perché sennò io era proprio una sfiga pazzesca, cioè nel senso. Ma, ma, l'unico, anche un altro, c'è anche da dire che possiamo fare questo esempio anche con le macchine normali. Perché vi spiego. Se io prendo, magari un'autoambulanza diesel, mettiamolo che sia diesel, e io prendo questo diesel, ma questo diesel malagueratamente è sporco, e quindi la macchina non va, non riesce ad andare perché, appunto, era sporca, non riesce a fare funzionare, allora cosa succede? Si blocca! Oppure, mettiamo un altro caso, questo, questo, qui, appunto, il tizio che fa, quindi magari il benzinaio, comunque chi è che fa il ricarico, si sbaglia, pensa che sia benzina, l'autoambulanza è ferma. Quindi diciamo che lo stesso esempio si può fare con la benzina, anzi, c'è più probabilità, perché in un caso ci può essere solo una cosa, che non va il caricatore, nell'altro che o ha sbagli a mettere, oppure sia sporco il diesel, o anche la benzina può essere sporca, eh, per carità. E quindi non ha molto senso questo ragionamento, perché, sì, ovvio, ci deve essere più, deve esserci più, come dire, organizzazione da parte degli ospedali per le autoambulanze, però, però comunque si riesce, secondo me, ad esserci, anche perché non è, secondo me, un problema le autoambulanze elettriche, anche perché secondo me esistranno già, credo. Comunque, andiamo avanti. Un altro esempio, da persona che voglio molto bene, che abita con me, mi ha detto che io non prenderò mai una macchina elettrica perché le colonnine di ricarica non funzionano mai, punto, uno non è vero, cioè, in senso, non è vero, punto. Secondo, ormai, essendocene anche sì poche, però comunque ce ne sono, secondo me, ormai abbastanza, in un altro, puoi andare in un'altra colonnina. Se poi non ne trovi nessuna, chiedi, se siamo in viaggio, mettiamola così, e se sei in un hotel, chiedi informazioni per ricaricare l'auto elettrica, anche perché in un'auto elettrica basta avere una presa normale, la presa normale e la ricarichi, no? Un po' come carichi il tuo cellulare, solo che il cellulare ha 5.000 mAh o anche 3.000, dipende di quale, se hai un Android o comunque, sono ai 3.000, 5.000 e l'auto elettrica ne ha molti di più, però si riesce a caricare, anche perché un'auto elettrica tu non la ricaricherai mai al 100% in un viaggio, la ricarichi giusto il tempo di ricaricarlo, anche perché adesso, ad esempio, se prendiamo un auto Tesla, lui ti fa tutte le, tu gli dici dove vuoi andare, lui ti fa tutte le tappe che ti servono per ricaricare questa, la macchina elettrica, perché con l'intelligenza artificiale si riesce. Quindi, diciamo che non ha senso tutte queste preoccupazioni, che è scomoda, che eccetera, ovvio è meno efficiente, ovvio è più scomoda, perché comunque devi essere più organizzato tu nel viaggio, non puoi fermarti quando vuoi, eccetera, eccetera, però, però comunque, molte gente ha bambini piccoli che magari non hanno un futuro, perché? Perché questi trogloditi pensano solo ai vecchi e ad aumentare le loro pensioni che a noi, però non penserebbero a dire, ok, noi non accentiamo, perché comunque ognuno ha la sua scelta e l'elettrico non è una soluzione, perché l'elettrico è una delle tante soluzioni, una, la più assoluzione che secondo me sarebbe la migliore è togliere tutte le automobili e usare i servizi pubblici elettrici, però capisco anche che ognuno vuole avere una sua autonomia e non tutti possiamo usare i mezzi di trasporto, però comunque si può fare, ecco. due, si può usare auto elettrico ed idrogeno, invece questo governo, no, teniamo la benzina perché è più comodo, no, c'è un senso, non va bene, poi, attenzione, non solo l'Italia ha perplessità, c'è l'Italia e la Polonia vogliono dire no, la Germania è ancora, si è astenuta, a quanto ho capito. Comunque, cari trogloditi, per piacere, pensate anche a noi, che dobbiamo avere un futuro un po', diciamo, più ecosostenibile, perché sai, se in inverno ci sono 18 gradi, non credo che sia normale, pensiamo nel 2100, che, secondo me, l'inverno qui in Italia non lo vedremo più, anche perché, per colpa di questo cambiamento climatico, qui al nord, non piove più, ed è un problema, perché così gli agricoltori non possono coltivare, perché se non c'è acqua, non c'è acqua, e se ognuno pensasse ad adesso, e non pensasse al futuro, pensiamo che al futuro, magari, visto che le correnti stanno andando al sud, o a centro Europa, la famosa Sant'Anna, dal Monviso, imbottigliata a 2000 metri, vedremo a Sant'Anna, acqua dell'Etna, imbottigliata a 1000 metri, cioè, in senso, adesso, è per dirvi che, mai, il cambiamento climatico c'è, non ci sono dubbi, e quindi, l'Unione Europea, una volta che vuole fare qualcosa di giusto, di giusto, che stava per essere approvata, e voi la fermate, perché siete drogoloditi, volete stare all'età del ferro, della pietra, cioè, non ha senso, comunque, l'Unione Europea, ha rimandato il voto al 7 marzo, speriamo in bene che, capiscano che, è importante, questa transizione energetica, e farla il prima possibile, vi prego, condividete questo video, per far capire, che è importante, attuare, una transizione energetica, già, adesso, quindi, ho già fatto un video, a riguardo, quindi, vi invito a vederlo, per tutte le, alcune soluzioni, non sono tutte, ma alcune soluzioni, e, mettete un mi piace, e commentate, sulla vostra idea, che vi siete fatti, secondo voi è giusto, fare, attuare questa transizione energetica, con l'elettrico, o, sbagliate, dove, secondo voi, dovete, secondo voi, le macchine diesel, e le benzina, sono ancora ecosostenibili, o, non, o l'elettrico, è proprio una cosa, da mettere a parte, dobbiamo trovare, un'altra tecnologia, ditemi, scrivetemi qua sotto, nei commenti, e noi ci rivedremo, in un prossimo video, e, ci vediamo in un prossimo video, e, niente, ciao, Ciao!